Le aziende che producono generici devono fare richiesta ed ottenere un'autorizzazione per immettere sul mercato il loro prodotto. Quindi questa richiesta poi va fatta alle agenzie regolatorie competenti per territorio e ci possono essere delle strade diverse. L'azienda può fare una richiesta in molti paesi europei oppure può fare una richiesta in un unico paese. Per esempio un'azienda che è interessata a vendere il suo farmaco in Italia può fare una richiesta esclusivamente per l'Italia. Per l'Italia diciamo sia che si tratti di richieste a carattere solo nazionale sia che si tratti di richieste che riguardano diversi paesi europei però in cui sia inclusa anche l'Italia. In tutti e due i casi l'organo competente per i controlli di qualità sicurezza ed efficacia è l'agenzia italiana del farmaco. E allora c'è innanzitutto un controllo alla fonte perché l'azienda che richiede l'autorizzazione deve presentare un cosiddetto dossier registrativo in cui devono essere contenuti tutti gli elementi diciamo tutte le prove di qualità del prodotto qualità della diciamo la tecnica farmaceutica tutto quello che sono gli aspetti di diciamo proprio manifatturieri. più diciamo prove di efficacia e di sicurezza adesso sulle prove di efficacia e sicurezza c'è da dire che ci sono dei percorsi agevolati perché ovviamente un farmaco che sia già presente sul mercato la molecola è già conosciuta da tanti anni tantissimi anni quindi non è necessario rifare tutte le prove di efficacia ci sono delle prove di efficacia surrogate diciamo una specie di scorciatoia che viene concessa per questi farmaci e che poi magari forse più avanti avremo modo di parlarne più in dettaglio ma una cosa importante da chiarire che per quanto riguarda l'aspetto di qualità del prodotto quindi diciamo la parte del dossier registrativo che riguarda la cosiddetta quality allora la qualità del prodotto deve rispondere agli stessi requisiti che vengono richiesti per un farmaco originator quindi non ci sono sconti che le agenzie fanno riguardo alla qualità del prodotto equivalente ecco questo penso sia un concetto molto importante e per di più c'è da dire che poi se un farmaco è stato originator è stato messo sul mercato 10-15 anni prima e poi non è stato più rivisto l'aspetto della qualità produttiva si può anche verificare che il farmaco che viene prodotto oggi nel 2017 in termini di qualità produttiva pur essendo un equivalente potrebbe avere degli aspetti di superiorità o comunque non può essere inferiore in termini di qualità rispetto al farmaco originator e questo è solo per quanto riguarda diciamo il controllo ai blocchi di partenza quando il farmaco deve essere immesso sul mercato poi ci sono anche controlli successivi alla commercializzazione che riguardano sia un'attività che è sempre a capo fa capo all'AIFA di ispezione delle officine produttive per esempio che ovviamente è un'attività a campione perché non si può controllare tutte le officine farmaceutiche che sono presenti però insomma con un criterio diciamo a campione c'è un'attività di controllo anche per esempio se dovessero arrivare delle segnalazioni di scarsa qualità e quindi si fanno delle ispezioni mirate e c'è un'attività di controllo di farmacovigilanza cioè raccolta di eventi avversi post marketing quindi successivi alla commercializzazione che per i farmaci generici funziona esattamente alla stessa maniera di quello che è il funzionamento di raccolta di dati di reazioni avverse ai farmaci per i prodotti per i farmaci cosiddetti originator quindi le aziende che producono farmaci equivalenti devono avere un loro sistema di farmacovigilanza raccolta dati eccetera che funziona esattamente alla stessa maniera di quello che fa l'azienda che produce e vende il farmaco originator i livelli di qualità di controllo sono a questi step e a questi livelli diciamo assolutamente assimilabili a quello che si fa per un farmaco originator grazie a tutti grazie a tutti